Il problema sismico è un problema sentito in Italia e nel mondo. Non possiamo non ricordare ciò che è accaduto in primavera nella nostra regione. La domanda viene d'obbligo. Quanto sono sicuri gli edifici della Romagna? Quanto sono sicuri gli edifici della provincia di Rimini? Teniamo conto di una cosa. La primavera entrata in vigore delle normative sismiche per quanto riguarda la Romagna e quindi per quanto riguarda anche Rimini è settembre del 1983 che significa che tutto quello che è stato costruito prima è stato costruito in assenza di normative antisismiche. Ora è necessario fare una precisazione. Non necessariamente quello che è costruito in assenza di normative antisismiche va male. Chiaramente non ci dobbiamo aspettare lo stesso livello di sicurezza mediamente che potremmo avere con un fabbricato nuovo appena costruito. Per cui una percentuale da 1 a 100 o da 1 a 10, quanto sono sicuri i nostri edifici? Ripartendo appunto da quello che ho detto prima, cioè la normativa antisismica c'è solo dall'83 teniamo conto che dal 70 all'80% del nostro patrimonio edilizio è stato costruito prima dell'83. Per cui non per fare uso della sigla della vostra associazione c'è da tremare? La nostra associazione si chiama Io non tremo ma non perché è legato all'evento sismico piuttosto che al tremare per la paura. Noi diciamo che non tremiamo perché siamo consapevoli di quello che è il rischio sismico della nostra zona. Sappiamo che storicamente, mediamente, nella nostra zona accade, nella nostra zona intendo la fascia romagnola, la fascia costiera romagnola, avviene un terremoto mediamente ogni cent'anni e sappiamo che l'ultimo è venuto nel 1916 ad esempio, quello primo è venuto a fine 700. Sappiamo quindi che la nostra è una zona sismica ed è una zona sismica attiva, seconda categoria viene chiamata. Quindi dobbiamo essere preparati per quando questo eventuale evento succederà. Chiaramente tutti speriamo che non succeda, però sappiamo che in ogni caso potremo aspettarcelo. Grazie.